Buona dimostrazione adesso con le due tecniche che si usano a cartellando per lavorare gli oggetti. Tecnica di soffiatura e tecnica di scultura. Faremo una bottiglietta e poi un cavallino. Il primo sarà soffiato con la canna d'acciaio, il secondo scolpiremo le pizze e le fociche. Il composto base all'interno di quel ciliente, sabbia di silice bianca, soda, potassa e calcio. Viene fuso a 1300 gradi, si lavora tra i 1000 e i 700, dove è malleabile più. Bene, ok. So, abbiamo altre dipostazioni con il sereo e Mattia. Dei sprechi, la prima è una canna con il vaso, la seconda è una canna con il vaso e un pferd con il vaso. C'è una ascienza an che possono fare con il per i tanti, questa è vero. con soltanto drasche sull'opente 1.300 gradi e la lavorazione tra 1000 gradi 7 gradi sull'aschino 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 ok allora vi faccio con le due il Hubbe Santa L' tastes tarpe 3 more sull'aschino E' un cheval, con la seconda struttura. 11 e 6 ozzi sono le ozzi, un instrumento che noi abbiamo. Il vero a rendere conto, d'abord, c'è sempre necessità di agire sui di rotazione e calcio, c'è il lardo alla cote, e un pezzo a 1.300 gradi, un orange liquido, demi fluido a 1.000, è durci a 700. Ok, so, so, you are just seeing the first piece, that is a bottle, hand made by Glenn Shape Art, so this is a little demonstration with two samples, we start with a bottle making, and we have 700 degrees on the piece, finally done, we need to melt the combination of that piece, silica, sand, soda, potassium, for 8 hours on 1300 celsius, this idea over there, at the end we manage this layer in orange mass, for one minute, at least, because we have the piece ready and solid, 700 degrees, after just 55 seconds. So, this is the second technique with pliers and iron scissors, stress shape and cut out from the glass bowl, and no force. Mi ricordo che abbiamo bisogno di 24 ore per affrontare gli oggetti dai 700 gradi in giù, per dimittà di bakmini. Ehm... … ... ... ... ... ... ... ... On si trova assi tutto con la temperatura di 1-4 ore con le four rouges e l'aluron d'un minuto per evitare le charme so remember the important things when we start the cooking process we bring as soon as we can the piece inside right over down there for about 24 hours we leave them rest all night long going down slowly with the temperature range otherwise we have the piece blowing up in 5 minutes here instead of the bottle is a bomb ok, allora questo è tutto io vi ringrazio per l'attenzione se volete ringraziare il nostro maestro il mio frilin caté potete farlo qui se avete il mio frilin anto